Sì, è una soddisfazione incredibile, i ragazzi sono stati veramente fenomenali, siamo felicissimi perché abbiamo ancora una volta dimostrato che con una squadra messa in piedi, quasi senza troppe pretese e con tanta passione partita dopo partita si può arrivare a risultati importanti. Tra l'altro in questa partita abbiamo dovuto giocare con delle divise in trasferta e siamo riusciti a recuperare e ringraziamo l'associazione Calcio Fanfulla, un'associazione storica di Lodi che con il suo direttore sportivo Emiliano Fabri ci ha permesso di avere delle divise per giocare questa partita, quindi anche delle divise storiche abbiamo reso onore a una squadra storica come il Fanfulla. Siamo qui anche con un professore del Collegio Ghislieri, ma questi ragazzi oltre che nello studio danno anche soddisfazioni nello sport. È un bel equilibrio, giustamente, no? Poi il gioco in sé vale. E quindi voi ragazzi ci avete messo sempre il cuore in tutto il torneo nel girone e anche oggi in semifinale. Sì, noi ci abbiamo messo l'anima anche perché siamo partiti, le prime due sconfitte e abbiamo dovuto rimetterci un po' insieme, due vittorie, un pareggio, poi adesso siamo arrivati qua, siamo in semifinale. Direi che più di così non potevamo fare. Quindi più di così adesso dove può arrivare il Ghislieri? Vi ponete degli obiettivi? La zona Champions. Ma il nostro obiettivo è raffrontare il Collegio Borromeo, però purtroppo dobbiamo dire che non avremo questo onore quest'anno. Comunque è come se si fosse fatta. E poi vorrei fare un ringraziamento speciale al portiere della squadra avversaria che comunque è anche al nostro, ecco questo. E qui si spengono le luci. Buonanotte a tutti! Grazie. Ciao. Buonanotte. Buonanotte.